Ciao a tutti, sono Sandro Agostini e voglio parlarti oggi della tettica slide Ok, allora seconda parte di Feeling Bad Blues Inizi con Nummer nella seconda corda Grazie a tutti Grazie a tutti I dettagli Allora, Hammer Qui il basso deve sostenerti Qui ha i due bassi, la quinta e la quarta corda che devono continuare a vibrare Attento dopo il metto lo slide Il decimo Qua è importante la dinamica Banding di mezzo tono Hammer Sesta e la quinta corda Hammer Basso sulla quinta corda Finale Quarta corda Quinta 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 corda Il cd legato che contiene il cd legato che contiene tutti gli esercizi Quindi lo slide è a vostra disposizione Io vi do appuntamento al prossimo video per potervi aiutare ancora nell'avvicinarvi a questa tecnica È difficile da padroneggiare ma una volta presa in mano vi assicuro che è estremamente divertente lavorare con il bottling Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video Alla prossima Ciao